Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 17enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell'accessione al dettaglio. Il giovane, dopo una perquisizione domiciliare eseguita in due dimore distinte, è stato trovato in possesso di 73 grammi di hashish già suddiviso in dosi, di 6 grammi di marijuana, 3 bilancini digitali, 3 coltelli e di bustine in cellofan a chiusura termica da utilizzare per il confezionamento delle singole quantità. Il PM di turno ha disposto che l'arrestato venisse associato presso il centro di prima accoglienza in attesa della successiva convalida. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli volti ad individuare minorenni dediti allo spaccio nei pressi degli istituti scolastici.